Io voglio andare al cinema. Tu che cosa vuoi fare? Noi dobbiamo fare la spesa. Voi potete preparare la cena. Claudio deve alzarsi presto. Lei deve essere a casa alle otto. Le mamme vogliono uscire. Lui non può uscire stasera. Io voglio studiare la lezione. Tu sai fare gli esercizi. Noi vogliamo andare al mare. Voi volete venire con noi? I cani devono stare fuori. Mia nipote vuole un libro. Io posso guidare l'auto. Noi dobbiamo essere puntuali. Gli studenti vogliono le vacanze. Tu puoi sempre mangiare. Il cameriere vuole la mancia. Non voglio stare dentro casa. L'autobus deve parcheggiare. L'autobus deve parcheggiare. Nostro padre si fa la barba. Voi vi specchiate continuamente. Noi ci vestiamo in modo elegante. Voi vi bagnate sotto la pioggia. Claudia si pettina i capelli. Noi ci ricordiamo le nostre vacanze. I miei vicini si godono il panorama. Stasera addormentati presto. Tu ti diverti molto con gli amici. Per nuotare mettiti la cuffia. Io mi lavo i capelli ogni mattina. Tu e Luca vi sentite ogni sera. La mia amica si chiama Laura. I miei nonni si alzano alle sei. Tua mamma si arrabbia spesso. Voi vi svegliate troppo tardi. Vai a tagliarti i capelli. Tu non domandarti il perché. Io mi stanco molto velocemente. Ti ho visto da qualche parte. L'auto di tua nonna è verde. C'è una lettera per te da Parigi. Claudia ha finito di studiare. Il vaso è caduto dal balcone. Luca è stato al cinema da solo. Oggi partite col volo del luna. Stiamo andando tutti da Paolo. Questo vestito è di due anni fa. Luca vuole qualcosa da bere. Hai una casa piena di quadri. Siamo usciti da quel negozio. Domani non ho nulla da fare. La porta è di nuovo chiusa. La mattina bevo molta acqua. Gli italiani sono molto eleganti. Gli olandesi sono molto allegri. Vedo molte donne vestite bene. Conosco molte lingue straniere. Molti autobus aspettano in fila. Le regioni italiane sono molte. Questi sono molto interessanti. Luca e Claudia sono molto belli. I nipoti stanno molto bene. Sto molto bene e sono felice. Molti amici sono arrivati adesso. Cerco di imparare molte lingue. Molti studenti arrivano in ritardo. Non sono molto felice. Il nipote gioca. Lo zio ha una camicia blu. La figlia gioca con le bambole. La mamma prepara la cena. Il nonno fuma la pipa. Il papà va al negozio. La nonna assaggia il vino. Il figlio gioca a calcio. La sorella si è tinta i capelli. La nipote piange. Il cugino dorme sul divano. Il nipote è contento. Il fratello cammina. La cugina ha gli occhi blu. Questo è un bel giardino. La tua casa ha bei pavimenti. Desidero un buono scialle. Quei perfumi non sono buoni. Ho letto questi giornali e quelli. Ho mangiato un buon dolce. Ho visto dei begli uomini. Quei fiori non mi piacciono. Lina è una buona amica. Questi sono bei paesaggi. Oggi parlo con quegli studenti. Ti porto un bel regalo. Sabrina è una bella donna. Questa macchina è bella. Questo è un buon lavoro. Nel film ci sono buoni attori. Non vado mai da quelle parti. Ci piacciono quei gatti. Vogliamo una bella cena. Il tuo è un buon gelato. Questi sono bei giorni. Molte persone visitano Venezia. Venezia è visitata da molte persone. L'artista dipinge un quadro. Il quadro è dipinto dall'artista. Claudia mangia una mela. Una mela è mangiata da Claudia. Il cane ha svegliato i vicini. I vicini sono stati svegliati dal cane. Paolo ha scritto una lettera. Una lettera è stata scritta da Paolo. La nebbia nasconde gli animali. Gli animali sono nascosti dalla nebbia. Lui impara molte lingue. Tante lingue sono imparate da lui. Due amici bevono molta acqua. Molta acqua è bevuta da due amici. Luca compra una macchina. Una macchina è comprata da Luca. La mamma cucina il pranzo. Il pranzo è cucinato dalla mamma. I siciliani producono le arance. Le arance sono prodotte dai siciliani. Voi guardate un film. Un film è guardato da voi. Luigi ha rotto il telecomando. Il telecomando è stato rotto da Luigi. La pioggia bagna le strade. Le strade sono bagnate dalla pioggia. Loro leggono tanti libri. Tanti libri sono letti da loro. L'autista guida l'autobus. L'autobus è guidato dall'autista. Vedremo l'eclissi a mezzogiorno. L'eclissi sarà vista a mezzogiorno. Ho aperto la finestra. La finestra è stata aperta da me. Il venditore chiude il negozio. Il negozio è chiuso dal venditore. Devi cucire il vestito. Il vestito deve essere cucito da te. Il sole scalda l'aria. L'aria è scaldata dal sole. Di chi è questa giacca? È la mia. Di chi è questo impermeabile? È il suo. Di chi è quella macchina? È la sua. Di chi è quello zaino? È il nostro. Di chi sono quei vestiti? Sono i loro. Di chi sono quelle sciarpe? Sono le mie. Di chi sono questi bicchieri? Sono i suoi. Di chi sono quelle bibite? Sono le sue. Di chi è questo cappotto? È il mio. Di chi sono quegli orologi? Sono i nostri. Di chi sono quelle case? Sono le loro. Di chi è quel bambino? È il suo. Da bambina, mia sorella, suonava il pianoforte. Da giovane, mio fratello aveva i capelli lunghi. Ieri, mentre mio padre dormiva, io ho guardato la tv. Ieri, ho dormito tutta la giornata. Mentre io studiavo, lui, giocava al computer. Nostro cugino ha viaggiato una sola volta. Da bambina, lei non voleva mangiare la pasta. Alcuni anni fa, io andavo spesso al cinema. Hai comprato gli spaghetti? Sì, li ho comprati. Hai letto il giornale? No, non lo ho letto. Hai pulito la tua stanza? Sì, la ho pulita. Hai fatto l'aperitivo? No, non lo ho fatto. Hai buttato le cose vecchie? Sì, le ho buttate. Hai venduto i vestiti? No, non li ho venduti. Hai invitato i tuoi amici? Sì, li ho invitati. Chi ha chiuso le finestre? Le ho chiuse io. Chi ha cucinato la pizza? La ho cucinata io. Avete mangiato le mele? Sì, le abbiamo mangiate. Hanno perso le chiavi? No, non le hanno perse. Avete ascoltato la lezione? Sì, la abbiamo ascoltata. Hanno letto i libri? No, non li hanno letti. Avete sentito la notizia? Sì, la abbiamo sentita. Hanno guidato l'auto? No, non l'hanno guidata. Abbiamo pagato il conto? Sì, lo abbiamo pagato. No, non vedi. No, non la tendenzia è nulla. No, non la tendenzia. No, non vedi. No, non l'ho. No, non ci sinistra. No, non c'è nulla. Dell'auto soltпа. No, non vedi be. Ne frying pan.